Bisogna fare così, bisogna prendere un filo, per esempio questo blu, e farlo passare dentro e fuori da tutti questi fili tirati. Se voi lo fate passare dentro, fuori, dentro e fuori, forma il tessuto della vostra maglietta o dei vostri pantaloni. Avete visto? Adesso vi faccio vedere, pronti, guardate che magia, adesso li lo porti di là, che magia, vediamo se sapete farlo anche voi, come le pescitrici, pronti, le tocca a lui, ecco il filo. Ciao Egli! No no no! Vai avanti, vai avanti con un altro! Nel altro, pronti! Via! Uno, due, tre, da un, la un! Diego, io ci ho visto le mani, nel telefono di Egli. Bravo! Facciamo un applauso per Diego, facciamo un applauso forte! E' diventato un tessitore eccezionale per le nostre magliette!